Una sorpresa nello stile di Papa Francesco è quella che hanno vissuto i bambini e gli operatori del villaggio SOS una struttura nel quartiere Boccea di Roma. Un venerdì della misericordia all'insegna della gioia disegnata sui volti dei piccoli ma anche su quello del Papa. Nella casa famiglia è incontrato una trentina di bambini solitamente segnalati dal Tribunale per i minori o dai servizi sociali che qui vivono insieme agli educatori. Accanto a loro anche ragazzi più grandi che hanno svolto nel villaggio il loro percorso di crescita e che continuano a dare aiuto e ad offrirlo. Il Papa ha portato dolci e caramelle per fare merenda con i bimbi increduli di fronte alla presenza di Francesco con il quale hanno giocato insieme, abbracciato, accarezzato e accompagnato nella visita della struttura. Una grande emozione per i bambini e per i ragazzi da sempre emarginati ha riferito il direttore Paolo Contini un'opera importante aggiunto riferendo le parole del Papa perché nessun bambino nasce per crescere da solo. Grazie. 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 Grazie.